ciao sono marizio di me di sport benvenuti a un nuovo b pop and call il regale di oggi è un regalo per particolarmente per gli sportivi dedicato agli sportivi vi proponiamo un regalo la scelta fra questi quattro che vi facciamo vedere una ginocchiera una polsiera due cavigliere una semplice o una più adatta a chi fa tennis calcio per partecipare basta commentare poi tagare qui sotto medisport grazie a tutti da ortopedia sanitaria medisport ciao